Ristretto italiano. I media internazionali scrivono di noi. Un altro sabato è arrivato. Buongiorno a tutti. La venere turista, ideata dal Ministero del Turismo per tenere viva l'immagine dell'Italia nel mondo, piace sicuramente di più all'estero che in patria, dove è al centro di una tempesta di critiche via social. Di che cosa si tratta? Immagino che lo sappiate. La donna del rinascimento italiano più celebre al mondo, insieme a Mona Lisa, ovvero la venere di Botticelli, è stata ridisegnata, come spiega il clarin da Buenos Aires, in una nuova veste di ambasciatrice dell'Italia del mondo. Una specie di influencer, di onda alta, bella come una perragni, ritratta in bicicletta sotto il Colosseo, mentre mangia un trancio di pizza davanti al colpo di Napoli, mentre si scatta un selfie in piazza San Marco, seduta su uno scoglio davanti al centro storico, sul golfo di Polignano a mare. Una campagna realizzata dallo studio Testa di Milano, che prevede un investimento dell'Enit di 9 milioni di euro. Una principessa sfrattata fa sempre notizia, e la notizia dello sfratto della principessa Rita Boncompagni-Ludovisi, scortata fuori dalla cinquecentesca Villa Aurora, è riportata oggi da un sacco di giornali inglesi. L'uscita di casa forzata fa seguito a una lunga disputa ereditaria, finita male per lei, con i tre figli di primo letto del suo depunto marito, Nicolò Boncompagni-Ludovisi, che era l'ultimo proprietario di quella villa nel centro di Roma, dentro al quale è conservato, tra altri documenti di grande valore, anche l'unico affresco dipinto da Caravaggio. Come riporta il Guardian da Londra, la saga comincia nel 2003, quando Rita Carpenter conosce Nicolò, principe discendente di una nobile famiglia italiana, che la monarchia fosse stata abolita 60-70 anni prima, per lei era un dettaglio. La villa, a due passi da Via Veneto, ma protetta dagli sguardi da alte mura, era stata per lo più abbandonata fino al 2010, quando fu riaperta dopo un costosissimo progetto di restauro. Tutto bene fino al 2018, alla morte del principe, che nel suo testamento concedeva alla vedova di restare nella proprietà per il resto della sua vita, e in caso di vendita il ricavato doveva essere diviso fra lei e i figli, appunto. Testamento contestato, col finale che abbiamo visto giovedì mattina. Lei, che cagnolino in braccio, usciva davanti al figlio minore del marito, Bante, il quale le orrava, principessa non è il suo titolo. Per chi desideri saperne di più sulla principessa, fra virgolette, chiamiamola così a questo punto, la CNN ci dice che prima di sposare il nobile italiano, la procace Rita Carpenter, nata in Texas, era stata sposata con John Jenrett, l'ex parlamentare americano coinvolto nello scandalo di corruzione e di scam, dimessosi nel 1980 e poi andato in prigione. Stesso anno, il 1980, in cui la donna rilasciò un'intervista, diciamo proprio tutt'altro che principesca, a Playboy, descrivendo nei dettagli il sesso con Jenrett sui gradini del Campidoglio a Washington. Successivamente partecipò a qualche film, c'è da dire di non grande successo. Speriamo si sia trattato solo di incompetenza, ha detto così l'ex ambasciatore italiano alla Nato, Stefano Stefanini, commentando l'incredibile fuga del russo Artem Hus dai domiciliari che gli erano stati imposti in un lussuoso appartamento del centro di Milano. Un'evasione che continua a tenere banco su numerose testate internazionali, come il Financial Times, che scrive come il fatto sia motivo di grande imbarazzo per Giorgia Meloni, considerata un'affidabile sostenitrice dell'Ucraina. I fatti in breve. Il fuggitivo, il cui padre è nel bordo del colosso petrolifero russo Rosenfett, è accusato dagli Stati Uniti di avere venduto tecnologie militari americane ai russi, aggirando le sanzioni, triangolando con un paese sudamericano. Per questo, gli Stati Uniti avevano emesso un mandato di cattura internazionale che scattò durante un transito del ricercato all'aeroporto di Malpensa nello scorso mese di ottobre. Arresto, seguito dalla decisione di risparmiargli carcere, di assegnargli un solo braccialetto elettronico in attesa dell'estradizione. E, un giorno dopo che l'estradizione fu concessa, il russo spariva all'appartamento. Aveva lasciato la luce e la televisione accesa, poi il braccialetto elettronico l'hanno trovato strappato a terra. Ricomparso in Russia due settimane dopo, ha espresso gratitudine per, testualmente, persone forti e affidabili al mio fianco. Come abbiano manifestato la loro capacità di convenzione, queste persone non si sa. E non lo vogliamo sapere. Certo è che giravoce che US possa essere stato scambiato con cittadini statunitensi arrestati in Russia. Per finire, ecco il treno più affascinante d'Italia. Si tratta dell'ETR 250 o più confidenzialmente l'Arlecchino e lo illustra in un lungo servizio la tedesca Welt. A differenza che in Germania, scrive la redazione tedesca, i treni italiani sono veloci, silenziosi, puliti e soprattutto puntuali. Pensa un po' te come devono essere i treni tedeschi. Sono un fiore all'occhiello della tecnologia nazionale, sempre quelli italiani. Ed è per questo che la Fondazione FS ha restaurato una serie di vecchie glorie da adibire a percorsi paesaggistici d'alta classe. E quindi, assieme a vecchie macchine a vapore, a carrozze d'altri tempi e a lettorine, ecco il ritollo dell'Arlecchino, Inaugurato in occasione delle Olimpiadi del 1960, Arlecchino era il fratello più anziano del Settebello, entrambi con una forma aerodinamica che ricorda un aeroplano, con il tipico belvedere davanti, dove otto fortunati possono sedere su sgabelli girevoli non prenotabili e godersi un panorama a 180 gradi. Il macchinista sta in una cupoletta di fronte a loro, una cupoletta altrettanto iconica. Progettato dal famoso architetto Gio Ponti e dal celebre designer Giulio Minoletti, il treno ha poltrone di velluto, tendine alle finestre, parete in finta pelle e ognuno dei tre vagoni ha un proprio colore, uno blu, uno beige e uno verde. Tutti i posti sono di prima classe, due poltrone da un lato, una dall'altro, quindi ampi e poltrone, e una quarta vettura è adibita a bar dalle cromature luccicanti con camerieri in librea bianca. Il restauro ha richiesto una decina di anni ed è stato ultimato recentemente. Ora, spiega la Velt, basta prenotare il proprio viaggio nel passato. Diversi gli itinerari, basta consultare il sito fondazionefs.it Vi saluto, ci risentiamo lunedì, poi ci sarà il 25 aprile e poi ci risentiremo di nuovo mercoledì. Vi aspetto, fatevi un buon weekend e se lo avete progettato, fatevi un ponte stupendo. Ristretto Italiano Di Ruggia Aeropo Di Ruggia Aeropo